Nicole che ultimamente sta postando un sacco di aggiornamenti sul suo fisico in preparazione per l'Olympia 2022 al momento lui è ancora nella sua off season e si aggira a un peso di 295 libri che sono 133 kg per un'altezza di 1,70 m quindi sono veramente molti molti chili qualche giorno fa ha fatto anche un'intervista con Honey Rambod su suo podcast su youtube in cui ha parlato dei suoi obiettivi per l'Olympia 2022 e di come sta gestendo questa sua off season Nick in questo momento come ho detto prima si aggira a un peso di 133-134 kg si sta allenando ora a Tampa in Florida in una palestra che non mi ricordo come si chiama però è veramente molto molto bella ha delle ottime macchine si sta allenando con Derek Lansford e anche con Kamal Elgar che qualche mese fa si è trasferito definitivamente negli USA e sta spermendo per bene Nick dai video che sto vedendo sul suo canale youtube Nick si sta veramente allenando duramente con Kamal e anche qualche volta con Derek Nick con Honey Rambod ha parlato di come sta gestendo questa fase della sua preparazione al momento è in off season però tra poco tempo inizierà una fase di scarico che durerà 6-8 settimane per far riposare il corpo e poi una volta finite queste 8 settimane inizierà la sua preparazione e inizierà il suo cut per l'Olympia 2022 che proverà a vincere Nick ha anche parlato di come sta gestendo l'alimentazione ha dato qualche esempio di cosa mangia lui in un giorno mangia all'incirca 1-1-2 di carboidrati che sono tantissimi non so come riesca a mangiare tutti questi carboidrati però se da un lato i carboidrati sono molto alti le proteine non sono neanche così tanto alte ha detto che preferisce mangiare non tante proteine per evitare problemi di digestione e per evitare problemi con il suo stomaco dato che lui ha il problema della vita e cerca di tenere la vita il più stretto possibile quindi mangiando meno proteine ha capito che il suo stomaco ha un feeling migliore quindi mangia poche proteine questa tra l'altro è anche stata la prima vera off-season di Nick della sua carriera erano anni che non faceva una off-season infatti Nick ha vinto la sua pro card nel 2020 ai North American Championship poi qualche settimana dopo ha fatto il Chicago Pro a novembre si è preso qualche mese di riposo in circa due mesi e poi a gennaio ha ricominciato la preparazione per il New York Pro l'ha vinto poi ha fatto l'anno classic e poi l'Olimpia quindi in un anno e mezzo due anni non ha mai fatto un off-season e tutti i miglioramenti che ha fatto li ha fatti esclusivamente durante la sua preparazione e quindi pensate ai miglioramenti che ha fatto e ai cambiamenti che avrà portato al suo fisico in un anno di tempo secondo me Nick avrà fatto dei ricambi molto significativi al suo fisico considerando che non ha mai fatto un off-season e ha avuto un anno di tempo per migliorare l'anno scorso Nick è arrivato al quinto posto dietro ad Hunter Labrada ma secondo me meritava tranquillamente il quarto posto per motivi che ho già detto e che non sto a ripetere quest'anno invece Nick ora che è più conosciuto secondo me può ambire al titolo può ambire a battere Rami può rientrare secondo me assolutamente al 100% nella top 3 può battere sicuramente Brandon secondo me dopo la scarsa prestazione di Brandon all'anno classic Nick secondo me lo può battere tranquillamente perché Brandon è da un po' che non è più al suo meglio quindi secondo me Nick può battere tranquillamente Brandon gli unici con cui credo che avrà difficoltà saranno Big Rami ovviamente che è il campione in carica e anche Adi Chupan questi secondo me saranno i due con cui Nick avrà più difficoltà e secondo me a cui servirà un po' più di tempo forse un altro anno per batterli perché battere Adi subito così al secondo Olimpia secondo me sarà molto molto difficile e servirà un altro anno a Nick però ripeto secondo me arriverà molto probabilmente in top 3 poi qualche mese fa anzi qualche settimana fa Nick aveva fatto anche un guest posing a Pittsburgh lo stesso che ha fatto Derek Lansford e che Rami ha saltato Nick è rimasto molto dispiaciuto per il fatto che Rami non si sia esibito perché voleva confrontarsi con lui fare un confronto testa a testa tra loro due per dare la conferma che Nick è una minaccia al titolo di Rami poi avevo fatto un video qualche giorno fa in cui spiegavo il motivo per il quale Rami non ha partecipato a Pittsburgh Pro come guest poser i motivi anche per il quale non ha più il contratto con le Nansford Nutrition purtroppo YouTube mi ha bloccato il video due volte quindi l'ho dovuto caricare su Instagram se volete vederlo l'ho caricato su Instagram la pagina è questa qui scritta in basso vi consiglio di guardare quel video perché è veramente molto interessante però ecco tornando su Nick lui è rimasto molto dispiaciuto per il fatto di non aver potuto posare accanto a Rami e ha detto che si rifarà all'Olimpia comunque poi una cosa molto interessante siccome tutti stanno parlando delle vene varicose di Nick Walker da sempre ecco lui ha spiegato che se le fate controllare queste vene varicose e che non hanno nulla di strano sono funzionanti perfettamente al 100% e quindi Nick stesso ha detto che se funzionano se non ci sono problemi non c'è motivo di rimuoverle anche perché ha detto che se le rimuove ora quando sono funzionanti potrebbero ricrescere in un modo più pericoloso e potrebbero nascere dei problemi per quanto riguarda la sua circolazione sanguigna che per il momento non ha comunque sono molto curioso di scoprire cosa porterà Nick Walker sul palco dell'Olimpia 2022 perché secondo me in questo anno di tempo ha fatto dei miglioramenti stratosferici e che gli permetteranno di fare posizionamenti più alti più alti del quinto posto dell'anno scorso e quindi sono molto curioso di vedere la nuova versione di Nick Walker comunque fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere cosa ne pensate dell'attuale forma di Nick Walker vi chiedo un like e un commento come al solito e ci vediamo in un nuovo video e ci vediamo in un commento come al solito grazie a tutti